Dopo quelle installate nella zona della Badia e all'incrocio tra Viale 3S e Via Messina, che sostituivano quelle precedentemente esistenti, è stata installata in questi giorni una nuova rotatoria in città, così come aveva annunciato qualche settimana fa ai nostri microfoni il comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga. Viene istituito infatti il senso rotatorio in corrispondenza della nuova rotatoria all'altezza dell'incrocio tra la Via Messina e la Via Redentore, con l'obbligo di dare la precedenza per tutti i veicoli che si immettono nella rotatoria a quelli che si sono già immessi nella stessa. Un provvedimento preso dopo aver effettuato un sopralluogo e al fine di rendere fluida e sicura la circolazione veicolare, si legge nell'ordinanza del 7 febbraio. Nella stessa giornata arriva anche un'altra ordinanza della Direzione Quinta, Polizia Municipale, CED, Affari Legali e Contratti, e riguarda gli stalli riservati ai taxi in Piazza Roma. Con il documento si stabilisce lo spostamento di uno di questi negli spazi affiancati agli archetti parapedonali, bianco-rosso, che si trovano in prosecuzione della Via Pisani, vicino all'attraversamento pedonale. E degli altri due a prosecuzione del primo, così da sostituire due stalli di sosta a pagamento. Questi ultimi non vengono eliminati del tutto, ma semplicemente spostati, trasformando due dei vecchi stalli di sosta destinati a taxi in stalli di sosta a pagamento, mentre il terzo trasformato in stallo di sosta rosa. Stando al documento sarebbero stati gli stessi esercenti l'attività di taxi a richiedere lo spostamento, per far sì che gli stalli potessero essere più visibili agli utenti. Una decisione presa anche in questo caso dopo aver effettuato un sopralluogo.